Non ha mai detto fuori che cosa ha detto, che cosa ha fatto nei spogliatoi, penso che l'hanno detto gli altri, poi il discorso che in Italia se uno denuncia non è credibile, se non denuncia diventa omesso denuncia e quindi poi è difficile valutare, però lui non è mai venuto fuori a dire io ho detto questo. Era un processo sportivo e ora è diventato un processo mediatico e sono cose che poi deve giudicare sempre a disciplinare. Penso che una volta se si permetteva di dire certe cose uno veniva deferito e squalificato. Continuo a dire io dormo tranquillo, allora poco.